Un processo di trasformazione, di rinascita dove prima c'erano degrado e silenzio, così il sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, ha festeggiato l'anniversario dalla sua elezione, prendendo parte simbolicamente alla demolizione dell'ex cinema Miriam in Piazza Santini, nel comune salernitano. Il primo passo, precisa la fascia tricolore, per dotare il territorio comunale di un grande contenitore di cultura, spettacoli e creatività, e anche di ripresa, terminata la fase più difficile dell'emergenza coronavirus. Demoliamo il Tosello, ma costruiremo un teatro, io già immaginavo quel violino nel teatro e mi sono anche emozionato. Questa è una demolizione che non toglie soltanto un'abbruttura, un edificio vecchio, ma io credo demolisce anche parte della rassegnazione, parte dell'indolenza, dell'incapacità che c'è stata, io non dico su tutto, ma su questa storia c'è stata incapacità, indolenza. Lo demoliamo, abbiamo già l'opera finanziata, ci auguriamo che dal concorso di idee esca anche una visione di tutta Piazza Santini più bella, è già finanziata anche l'edificio comunale, la CEI ha finanziata anche la ricostruzione, speriamo, della chiesa per qualche milione di euro, quindi ci sarà un recupero e una trasformazione di Piazza Santini generale che rigenera la città.